chi sono questi? chi sono questi? i paleolitici! i paleolitici? che tristezza non è il momento per una storia d'amore su veloci e si trattenga un attimo santo cielo adesso giochiamo a questo gioco andate dove vi portano speriamo alla raccolta dell'umido andate andate coraggio tu sei nata malvagia avrei dovuto ucciderti quando lasciasti il mio corpo mi raccomando scagliatevi contro pronti lei lei signora intanto si tumuli con calma sto parlando con una bara non mi era mai capitato beva beva fatela bere datele qualcosa da bere ti stavo proteggendo ma tu non lo meriti eh ma che donaroni attenzione sta presso piano la risa attenzione sta presso piano la risa no ma che bo-